Ok, per questo esercizio vi servirà la ruota, da qui impugnate, facciamo tutte le due le mani e andate distinte, una volta avanti a voi, ritornate in posizione di partenza, una volta verso destra, ritornate in posizione di partenza e una volta verso sinistra e ritornate in posizione di partenza.